Come dappertutto si notano valori positivi, anche tipici di questa città, e alcuni limiti sui quali vale la pena, senza voler dare dei giudizi, ma vale la pena riflettere. Il valore positivo di un tessuto sociale ancora molto vivace e con delle notevoli possibilità di ulteriore sviluppo, il limite forse più vistoso è una certa chiusura nell'individualismo, insomma, una certa assenza di maggiore passione civica. Sono i pregi e i difetti dei comaschi, secondo il vescovo Diego Coletti, attualmente impegnato a portare avanti la visita pastorale nelle parrocchie della città. Un viaggio nel capoluogo, tra luci e ombre, raccontato questa mattina dallo stesso vescovo durante l'incontro con i giornalisti, in occasione del santo patrono San Francesco di Sal. Una tradizione che si ripete ogni anno, usata questa volta da Coletti per sottolineare i temi che più lo preoccupano, dalla crisi economica e sociale alla delicata questione dei giovani. Avremo delle nuove generazioni di obesi, perché hanno fatto anche poco sport, avremo sempre meno generazioni capaci di stare insieme. Quale umanità stiamo preparando per gli anni 50 di questo secolo. Non voglio essere catastrofico, però un po' preoccupato lo sono. Inevitabile un accenno alla crisi del matrimonio e, in particolare, al crollo delle cerimonie religiose in città, visto che nel 2013 a Como i riti civili hanno praticamente doppiato quelli in chiesa. Poi che è l'assoluta incapacità di fare fatica, perché uno fa fatica soltanto se è innamorato veramente. Ma se fa dei patti, se vive semplicemente di dare ed avere quando l'avere deve essere comunque sempre più del dare, così diventa la vita. Nel giorno del patrono della stampa, infine il vescovo ha voluto ricordare la scomparsa di Don Titino Levi, padre dello scoutismo Comasco e confessore dello stesso Coletti. E qualche volta anche un po' strapazzandovi, perché non era mica molto tenero. Lo volevo ricordare qui perché, ripeto, ottimo prete e ottimo educatore scout come era, era anche un ottimo comunicatore e un buon giornalista.